Considero il rinnovato clima di sintonia con ANAS non un punto di arrivo, ma un punto di partenza. La Sardegna necessita di infrastrutture adeguate. Lo ha detto il presidente dell'Aggiunta regionale, Cristian Solinas, nel corso dell'incontro con l'amministratore delegato di ANAS, Massimo Simonini, alla presenza dell'assessore dei lavori pubblici, Aldo Salaris. Nel corso dell'incontro si è parlato del piano di investimenti da 3,8 miliardi di euro della rete Viaria Sarda, che si articola per circa 3.000 chilometri, e sulle nuove assunzioni dell'ANAS in Sardegna. Entro la fine di giugno la società procederà alla pubblicazione dell'avviso che riguarderà 100 figure professionali, tra tecnici, amministrativi e personale su strada da impiegare nei cantieri della Sardegna. Tra le criticità delle quali si è parlato, il completamento dell'asse verticale, la 131 e la dinamazione centrale nuorese, e di quei tratti di strada connessi con i flussi turistici. Il presidente ha anche parlato della necessità di realizzare collegamenti trasversali. Abbiamo solo collegamenti verticali, ha detto riferendosi al progetto della trasversale Sarda. Non esiste una strada che collega le due sponde tirreniche con la sponda mediterranea, che consenta di vivere la Sardegna in maniera diversa grazie all'accessibilità dei territori, sovralluoghi previsti da oggi sulla 131 e sulla Sassari Olbia.